Ciao amici di 089, siamo qui al Bar Umberto a Via Roma con lo staff di ChicZone. Ve le presento. Sono Angela Albaramo, Project Manager di ChicZone. Maria Laura Liberti, Marketing Manager di ChicZone. Angela Scanga, Project Manager di Planitario. Allora, ChicZone ha organizzato un bellissimo evento che è lo Swap Party, ovvero un party in cui si possono scambiare indumenti e accessori che dall'America è arrivato anche a Salerno, quindi potremo essere proprio come le nostre beniamine di Sex and the City. Ragazze, raccontateci di cosa si tratta. Allora, lo Swap è uno scambio, è un party del baratto, però non è il mercatino dell'usato, come tu hai detto, ma è un party del baratto glamour, quindi si possono scambiare solo abiti e accessori, nuovi o seminuovi, quindi l'acquisto sbagliato oppure l'abito messo solo al matrimonio dell'amica e mai più, e quindi è un modo per prolungare la vita dei nostri abiti e per fare anche shopping a costo zero in un momento divertente, come un party. Poi quest'anno abbiamo dato spazio anche ai bambini, forti del successo che abbiamo ottenuto con lo Swap Party del Gifoni Film Festival. Tante le aree da scoprire all'interno del nostro Chic Zone Swap Party, non solo appunto il baratto, ma ci sarà lo scambio dei vestiti, ci sarà l'area wedding, l'area fashion, l'area in vintage, appunto ci sarà un'area dedicata al mondo degli anni 50 e balli, insomma un modo divertente per passare un pomeriggio diverso. L'evento è patrocinato dal comune di Ponte Cagnano-Faiano, invitiamo tutte le ragazze a venire, anche perché sottolineo che tutte le attività del nostro villaggio sono gratuite, quindi gratuitamente sarà possibile effettuare prove trucco, parrucco, unghie, massaggi, cambiare il proprio look e farlo, diciamo, trasformarlo in un look anni 50, tutto assolutamente gratis. Siamo l'ex Tappac Fisocentola in via Budetti-Ponte Cagnano. Ci vediamo domenica.